Non solo grandi campioni ma una grande protagonista, la Neomisciclismo 2014, già da Macchi, appena eletta. Sei la testimonial oggi qua, la madrina di questa apertura, una elezione davvero freschissima. E intanto come sono questi primi giorni da Misciclismo? Beh, sono molto emozionanti ma molto molto impegnativi, perché comunque io cerco di rappresentare al meglio questo concorso, rispettando tutti gli impegni e sono molto onorata di essere qui oggi. Qual è il tuo rapporto con le due ruote? Ma molto bello, perché mio nonno era ex professionista, un po' tutta la famiglia di sportivi. Ecco, mio zio è anche lì un ex professionista di ciclismo su pista e io invece mi piace, da tre anni a questa parte, andare molto in mountain bike. Raccontaci un po', intanto un breve excursus sulla serata di elezione, questa serata ad Erbusco. Sì, una serata davvero organizzata benissimo, fondatore del concorso e organizzatore Matteo Romano, che ringrazio tantissimo. Abbiamo sfilato con tre uscite, una in abito sportivo, ciclistico, abito da sera e intimo. E in più dopo la proclamazione, una piccola intervista e poi proclamazione. Ti sei stata premiata non solo come vincitrice del concorso in sé, ma anche con il premio della critica da Martina Vanzi. Sì, esatto, da Martina Vanzi, un premio bellissimo, speravo di vincere quel premio e poi subito dopo la vittoria inaspettatissima. Qual è il tuo futuro? Il mio futuro è appunto quello di rappresentare al meglio questo concorso, di impegnarmi, di riuscire comunque a lavorare nel campo della moda. E pian piano sto notando, grazie anche a questo concorso, di realizzare questo mio piccolo sogno. Grazie a tutti.